Nel 1987, il celebre scrittore Stephen King pubblicò il suo romanzo horror fantascientifico, Tommy Knockers, Le Creature del Buio. Questa storia ha ispirato anche un'omonima miniserie televisiva nel 1993. Il protagonista del libro è Bobby Anderson, una giovane scrittrice che, nei boschi vicino alla sua casa nella cittadina di Haven, fa una scoperta inquietante, un relitto metallico appartenente a un'antica astronave aliena caduta sulla Terra. Da questo momento, gli abitanti della cittadina iniziano a comportarsi in modo strano, soprattutto di notte, e sembrano essere soggiogati da una forza invisibile proveniente dal relitto. L'unico a sembrare immune a questa influenza è Gard Gardner, un poeta alcolizzato che anni prima si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa, durante il quale gli è stata impiantata una placca metallica. Bobby e Gard scoprono che gli abitanti stanno subendo dei cambiamenti, diventando schiavi di misteriosi esseri che bussano alle loro porte ogni notte, i Tommy Knockers. Tommy Knockers, Le Creature del Buio, è un romanzo eccellente per gli amanti del genere horror. Tuttavia, non ha ottenuto un grande successo immediato e nemmeno la miniserie televisiva è riuscita a raggiungere un grande pubblico. Come molte altre opere scritte da King, anche questa storia trae ispirazione da leggende e storie popolari americane, sebbene in questo caso l'autore si sia limitato a prendere in prestito il nome delle creature. Il Tommy Knocker, chiamato anche Knocker o Knocker, è una creatura mitica protagonista di racconti legati alle miniere del vecchio West. Corrisponde ai folletti irlandesi e inglesi, anche se assomiglia più a uno gnomo, è alto circa due piedi, circa 60 cm, ha la pelle verdastra, i capelli grigi e le braccia lunghe, ma non deforme. Vive sottoterra e indossa versioni in miniatura dell'abbigliamento tipico dei minatori. Non è una creatura malvagia, ma detesta essere disturbato e si diverte a giocare piccoli scherzi a chi si avventura nelle grotte o nelle miniere, rubando attrezzi non sorvegliati o cibo. I Tommy Knockers, pur essendo creature leggendarie, sono considerati reali dalla grande maggioranza dei minatori americani. Sorprendentemente, anche alcuni scienziati moderni che hanno esplorato la vita nelle miniere credono in queste creature. I minatori, in particolare, sono estremamente superstiziosi e prestano molta attenzione ai segnali e ai messaggi lasciati da queste creature sottoterra. Molti dichiarano di averle viste con la coda dell'occhio e quasi tutti i minatori giurano di averne percepito la presenza o di averla sentita almeno una volta. Esiste un detto tra i minatori e gli speleologi americani, i Tommy Knockers possono salvarti la vita quando sei sottoterra, bussano alle pareti delle miniere per avvisare i minatori del pericolo o sussurrano loro di uscire. Non ignorare mai un Tommy Knocker se vuoi sopravvivere nel loro mondo. Si ritiene anche che quando si avvista un fantasma nelle miniere, una strana luce alla fine di un tunnel o si vede un'ombra anomala muoversi dietro di sé, si tratti di un Tommy Knocker. Chi crede in loro riesce ad ascoltare i loro avvertimenti ed è probabile che queste piccole creature assistano e favoriscano i visitatori, indicando perfino ai minatori vene ricche di minerali. Tuttavia, se vengono derisi o trattati con ostilità, possono causare danni o addirittura la morte a coloro che li ignorano. Prendere in giro un Tommy Knocker non è saggio. Se si parla con speleologi o persone che hanno trascorso molto tempo in gallerie e miniere, quasi tutti racconteranno di aver visto almeno una volta una nube bianca o una nebbiolina in fondo ai tunnel. Ecco, il Tommy Knocker era lì a osservare gli estranei e a decidere se simpatizzarci o meno. Le creature delle miniere sono oggetto di racconti da centinaia di anni, fin dai tempi delle miniere di stagno dell'impero romano. In quegli scritti si parlava di strane creature umanoidi che, prendendo pietà degli schiavi costretti a lavorare nelle miniere, li avvertivano dei pericoli imminenti e spesso li assistevano nelle loro fatiche minerarie. Forse tutto ciò è solo superstizione, forse no. Tuttavia, a volte di notte, se ci si siede in silenzio e si ascolta vicino all'ingresso di una vecchia miniera, è ancora possibile sentire i Tommy Knockers al lavoro e i più fortunati possono persino percepire l'eco di strane voci che provengono dal profondo.